Con il progetto di valorizzare la periferia, giorno dopo giorno aggiungi un nuovo tassello. Oggi la biblioteca qui a Salice, il suo pensiero? Il pensiero intanto è che è un sogno che si realizza, quello davvero di riuscire a portare cultura e servizi ai cittadini perché qua non ci saranno solo libri, ma ci saranno anche un punto d'incontro, un punto dove il comune sarà vicino ai nostri cittadini. Ed è la cosa più bella vedere posti come questo, posti che quando io ancora ero un bambino erano posti che rappresentavano un problema che oggi diventano un'opportunità, un'opportunità reale e concreta per la nostra città. Qua a Mazzafame veramente stiamo andando avanti, come dicevi, passo alla volta. Passo alla volta stiamo davvero creando un nuovo centro perché questa è la nostra idea. Quando diciamo città policentrica vuol dire questo, portare servizi, portare cultura, portare animazione, socialità, per essere vicini ai nostri cittadini perché la nostra legnano è fatta da tanti centri che sono i nostri quartieri e possiamo farli vivere così. Non ho altro da dire. Benissimo. C'è un gesto simbolico, quello di venire in bici e portare i libri in bici in questa nuova biblioteca. Assolutamente. Significato. Significato. È un significato nel significato per dire che anche con un modello di mobilità, nella vita della città diverso, riusciamo a dare senso e a dare relazioni, a stare insieme, a fare questo. Oggi qui si respira un'area di amicizia perché la cultura è anche questo, è vita e amicizia. E anche muovendosi in bicicletta si riesce a farlo tante volte meglio perché ci si muove in una modalità un po' più lenta che non vuol dire che ci si impiega più tempo perché sappiamo che molto spesso il tempo che perdiamo per cercare il parcheggio lo recuperiamo in bicicletta rapidamente. Questo è stato significativo anche aver portato i libri. Li abbiamo presi insieme, eravamo un centinaio di persone, li abbiamo presi dalla biblioteca centrale e li abbiamo portati qua per dire che la città viene unita. La città è unita e ha tanti punti dove può vivere, tanti centri, ma poi la città, la comunità è una e la nostra magnifica comunità di Legnano. E oggi siamo qua per festeggiarla. Perfetto, grazie sindaco e buon tutto.